E finalmente completato il tabellone dunque abbiamo le due finaliste alle World Series 2021 della MLB saranno Houston Astros e Atlanta Braves a contendersi il titolo Major League Baseball 2021 di fronte troveremo una squadra che è molto abituata a questi playoff e quasi sta creando una sorta di dinastia perché negli anni dispari sono sempre andati in finale e quando ci sono andati sono sempre stati eliminati poco prima parliamo degli Houston Astros e una delle rivelazioni di questa postseason ovvero gli Atlanta Braves che trovano soprattutto nella serie contro i Dodgers un Eddie Rosario in versione divina tutto questo per introdurvi all'ultimo recap prima di trovarci dopo l'assegnazione del titolo delle World Series parleremo delle due serie che hanno caratterizzato le finale di Lega e l'accesso delle due squadre a queste World Series due squadre che hanno ribaltato peraltro i miei pronosti personali perché se avete seguito il podcast precedente sapevate che avevo detto Boston finalista in sette match contro Houston e Los Angeles invece vincente in sei contro i Braves i Braves hanno ribaltato il pronostico e questa è una cosa per certi versi sorprendente ma poi non così tanto vedendo anche l'andamento della serie e dall'altra parte invece Houston si dimostra quantomeno essere la squadra più forte sulla carta rispetto a Boston sfruttando peraltro la mancata come dire produttività offensiva della formazione delle Massachusetts nelle gare decisive ma ne parleremo nel dettaglio partiamo però nell'analizzare la serie che mi ha sorpreso di più ovvero quella tra Los Angeles e Atlanta di fronte avevamo appunto i campioni in carica dei Los Angeles Dodgers che avevano comunque lo svantaggio di giocare in trasferta visto che per il regolamento di quest'anno i Los Angeles Dodgers sono dovuti passare tramite wild card e non direttamente tramite division Atlanta invece pur avendo un record inferiore ha vinto la division la National League East e dunque aveva il vantaggio del fattore campo ma al di là di questo Los Angeles nonostante i grandi infortunati era una squadra superiore ad Atlanta quantomeno appunto sia valore di roster sia valore di payroll eppure la serie tra Atlanta e Los Angeles non è stata una serie scuntata fin dalle prime partite Atlanta va addirittura in vantaggio 2-0 certo sfruttando il fattore campo si va al Dodger Stadium e abbiamo ancora in questa gara 3 paradossalmente una dimostrazione che una serie di questo tipo non è mai scontata e non bisogna lasciare nulla al caso eppure i Dodgers riescono a vincere gara 3 di cui vediamo qui il box score per 6-5 ma è stata una partita che è stata appunto soggetta a una rimonta incredibile da parte dei Dodgers che stavano soccommendo in realtà contro i Braves per 5-2 al giro di volta della partita segno che appunto Atlanta una volta che ha superato l'ostacolo Milwaukee e ha vinto le prime due partite della serie era una squadra totalmente in fiducia e sappiamo come nei playoff del baseball andare in fiducia è segno di assoluta confidenza e ti fa fare quello step in più che magari il valore del tuo roster non riesce a fare Atlanta stava per andare sul 3-0 alla fine la decide Cody Bellinger nell'ottavo inning nella parte bassa con un fuoricampo fondamentale da 3 punti per il pareggio e dunque 5 pari sul povero Luke Jackson che di fatto è un semi esorgente assoluto nei playoff poi la conclude definitivamente Mookie Betts con il singolo delle 6-5 e arriva poi la salvezza per Kelly Janssen il closer di Kurasau che porta a casa gara 3 per i Dodgers che dunque sono ancora vivi nonostante però si siano dimostrati una squadra sì competitiva ma che non sono riusciti poi a compensare i grandi infortunati che hanno avuto perché ricordiamo ancora una volta non hanno avuto fin dall'inizio dei playoff Clayton Kershaw e Max Mancy a questo discorso si aggiunge anche un altro infortunio che capita però in gara 4 Justin Turner, il terza base titolare ha un infortunio al tendere rotulo del ginocchio sinistro e dunque anche lui sarà out for the season lo ritroveremo l'anno prossimo e dunque pur con una formazione rimaneggiata i Dodgers dovevano affrontare le ultime due competizioni perché nel frattempo si va sul 3-1 per Atlanta si gioca gara 5 contro i Atlanta Braves sempre al Dodger Stadium e qui entra in gioco questo ragazzo qua entra in gioco Chris Taylor che viene riciclato tra virgolette come terza base titolare lui che di solito è uno utility player e Los Angeles Dodgers troverà in Chris Taylor il go-to guy per sollevare gara 5 e tenere viva la serie per andare a giocarsi le ultime due parti decisive contro Atlanta Chris Taylor avrà una prestazione meravigliosa in gara 5 con tre fuoricampo in una partita singola è il primo giocatore della storia a riuscirci per quanto riguarda un elimination game perché ricordiamo i Los Angeles Dodgers appuntavano questa partita gara 5 sotto 3-1 e appunto se perdevano arrivavano evidentemente all'eliminazione Chris Taylor decide che invece la serie deve andare avanti e riesce evidentemente a dare il là dal punto di vista offensivo ai Los Angeles Dodgers compensando l'assenza di Justin Turner al festival dei fuoricampo si aggiunge anche AJ Pollock che sarà importante anche in gara 6 ma evidentemente il go-to guy è appunto Chris Taylor che di base sarebbe un esterno ma appunto può giocare in tantissimi ore diversi e Dave Roberts l'ha messo in terza base e non a caso mi verrebbe da dire è una vittoria peraltro netta dei Los Angeles Dodgers che comunque arriva lo stesso in rimonta perché come vediamo dal tabellino che intanto dovrebbe caricarsi a breve Atlanta era arrivata al vantaggio già nel primo inning con un fuoricampo del canadese go-to guy della squadra Freddie Freeman 2-0 dunque per i Braves poi Chris Taylor decide di salire in carri dai fin al secondo inning riesce a buttarla fuori con una certa continuità appunto 3 fuoricampo consecutivi alla fine il totale è 11-2 se consideriamo anche i due fuoricampo di AJ Pollock che anche lui sarebbe una riserva ma è stato appunto chiamato in causa per sostituire Chris Taylor è andato a sostituire a sua volta Justin Turner in terza base questo per darvi un'idea che comunque al di là dei grandi infortunati e tutte le mancanze del caso Los Angeles era una squadra superiore ai Braves che però ripeto avevano il fattore campo e avevano già affrontato i Dodgers nella Championship Series dell'anno scorso perché appunto ricordiamo a Atlanta Los Angeles appunto si disputò anche l'anno scorso e l'anno scorso vinsero i Dodgers in una situazione prettamente analoga perché anche l'anno scorso i Dodgers furono sotto 3-1 e rimontavano 4-3 qui però non succede perché bisogna ringraziare per Atlanta due uomini in particolare il primo è lui è di Rosario esterno sinistro arrivato nella sessione di mercato estivo appunto ad Atlanta da Cleveland che appunto come abbiamo visto nei vari podcast dell'anno era una squadra che non aveva molto né arte né parte visto che comunque si è arrivata seconda nella American League Central ma era impossibile che battesse i Chicago White Sox Rosario è un giocatore di grande esperienza 30 anni per il portoricano ed è diciamo stato lui a dare la spinta decisiva per quanto riguarda gli Atlanta Braves non solo in questa gara 6 ma anche nella postseason in generale perché a parte che Rosario in gara 6 mette il fuoricampo del vantaggio del 4-1 che peraltro sarà decisivo e non solo grazie appunto al suo giro di mazza ma poi dopo sarà importante in tutta la serie perché Eddie Rosario totalizzerà 14 valide e di fatto diventerà il giocatore dei Braves con il maggior numero di valide nella storia della postseason veramente statistiche fenomenali per Eddie Rosario che appunto è rinato ad Atlanta in un'Atlanta che appunto nel reparto esterno soprattutto ha avuto delle mancanze incredibili perché tra l'infortunio di Acuna che si è fatto il crociato e la squalifica verosimilmente di Marcel Osuna il campo esterno era totalmente da rifondare sono arrivati Eddie Rosario Adam Duval e Jock Peterson sono tutti nella sessione di mercato rispettivamente da Cleveland Miami e Chicago Sponda Cubs e hanno dato veramente il contributo necessario per permettere ad Atlanta di tornare alle World Series dopo il 1999 quindi veramente una vita fa Eddie Rosario verosimilmente sarà anche l'MVP delle Championship Series appunto perché un giocatore che fa 14 valide in tutta la serie in 6 partite veramente si è visto veramente veramente poco c'è però un altro giocatore che Atlanta deve ringraziare e fargli una statua ed è un lanciatore che di fatto vincerà la partita statisticamente di gara 6 ed è il rilievo Tyler Mazzec che entra al settimo inning sul punteggio di 4 a 2 per gli Atlanta Braves i Los Angeles Dodgers hanno due uomini in base e zero out alla fine Mazzec silenzia l'attacco dei Los Angeles Dodgers e fa uscire dalle peste più complete i Braves e quella prestazione di Mazzec sarà la cartina di tornasole della serie e dunque permetterà ai Braves di andare direttamente alle World Series appunto Mazzec sarà il lanciatore vincente di gara 6 e appunto aumenterà le sue statistiche in modo ancora più positivo 2-20-0 perse per il numero 68 e 1-74 di media per una gara 6 che appunto è stata molto molto tirata appunto in equilibrio fino al fuoricampo di Eddie Rosario che arriverà nella parte bassa del quarto manca ovviamente a Los Angeles la prestazione come dio comando di Walker Buehler che era il lanciatore su cui bisognava puntare oltre a Max Scherzer ma Max Scherzer era programmato per lanciare in gara 7 Buehler appunto concederà tutti i punti di questa gara che verranno appunto accreditati su di lui e perderà la partita anche statisticamente la sua media array in questa postseason si innalzerà a 7-0-4 eppure la scelta di Buehler non era così sbagliata perché il numero 21 degli Los Angeles Dodgers arrivava da una streak di elimination game vinti incredibile perché ne aveva 24 di fila con una media ERA punti quanti sul lanciatore ovviamente di 0,80 quindi era una follia da un certo punto di vista non puntare su Walker Buehler che però qui mancherà alla fine si arriverà il punto come dicevo nel settimo inning sempre su Luke Jackson che evidentemente in questa postseason ci capisce veramente veramente poco alla fine appunto in quel settimo inning con due uomini in base e un out se non sbaglio entra Tyler Mazek e chiude la sera cinesca per i Dodgers che faranno solo 5 valide in 9 riprese e diranno addio alla difesa del titolo e concedono appunto agli Atlanta Braves di andare alle World Series appunto dopo il 1999 World Series che peraltro persero 4-0 contro i New York Yankees e gli Atlanta Braves sono diciamolo una squadra storica che comunque ha calcato per anni il top del meraviglioso gioco del baseball sono stati campioni nel 98 appunto World Series fatta nel 99 e da anni in realtà hanno compiuto un processo di rifondazione quando i miei New York Mets andavano a vincere le World Series o meglio a vincere la divisione e andare alle World Series nel 2015 che in realtà persero con i Kansas City Royals gli Atlanta Braves iniziarono un processo di rifondazione che li ha portati a vincere diversi anni di fila il titolo di diviso della National League East e dunque una presenza costante appunto nei playoff come l'altra squadra che andranno ad affrontare a partire nella notte tra martedì e mercoledì e parliamo ancora una volta degli Houston Astros che dopo il 2019 tornano nella finale per il titolo della MLB a sto giro non ci sono i Washington Nation ma ci sono appunto gli Atlanta Braves una serie quella tra Boston e Houston che in realtà era molto più aperta del pronostico base delle squadre degli addetti ai lavori perché ripeto sulla carta anche Houston era più forte di Boston ma Boston veniva da una serie di vittorie molto importanti che gli hanno fatto fare uno switch mentale incredibile perché ripeto hanno battuto gli Yankees al Wild Card Game hanno battuto i favorittissimi Tampa Bay Rays e arrivavano a giocarsi la serie con Houston con una carica mentale invidiabile e nelle prime serie nelle prime partite della serie effettivamente questa cosa si è vista perché soprattutto in gara 2 e in gara 3 Boston fa quello che vuole dal punto di vista offensivo la più significativa prestazione offensiva la ritroviamo in gara 2 non per il punteggio in sé perché è 9 a 5 ma vediamo dal tabellino della partita che nei primi due inning Boston fa 8 punti con due grandi slam il fuoricampo da 4 punti quindi è veramente qualcosa di incredibile che non si era mai visto ed evidentemente è qualcosa che poteva dare in là a una serie molto più combattuta è evidente che Boston puntava moltissimo sull'attacco un pochino meno sul monte di lancio che in realtà per entrambe le squadre non sarà un fattore vediamo per esempio la prestazione di Luis Garcia che sarà il nascettore perdente di questa partita che ha una media ERA di 45 che è qualcosa di folle Luis Garcia però avrà modo di rifarsi in gara 6 dove invece farà il Luis Garcia che abbiamo imparato a conoscere in questa regular season quindi un lanciatore molto molto costante il pivot al game però di questa serie è indubbiamente gara 5 è una gara 5 che si gioca a Fenway Park dopo che siamo sul 2 a 2 e dopo che Boston ha vinto nettamente anche gara 3 mentre Boston si risolleva e vince gara 4 si arriva a gara 5 e qui di fatto si ha l'inversione di tendenza che di fatto consacrerà i Houston Astros come vincitori assoluti di questa serie perché viene a mancare per la seconda volta in tre partite l'attacco dei Boston Red Sox che segnalano soltanto un punto con un fuoricampo peraltro di Rafael Devers nella parte bassa del settimo per tutto il resto della partita abbiamo gli Houston Astros che abbiamo imparato a conoscere quindi un attacco formidabile che ritrova peraltro Fran Bervardez lanciatore partente dominicano che ha evidentemente messo a posto le meccaniche che sono mancate in gara 1 e lo stesso discorso si può fare anche per gara 6 che sarà quella che di fatto chiuderà la serie una gara 6 dominata in lungo e in largo dagli Houston Astros che fanno addirittura shutout contro i Boston Red Sox tenendoli fermi a sole due valide il Luis Garcia di qui sopra fa una prestazione incredibile e va molto profondo nel match così come il venezuelano Valdez nel match precedente Valdez arriverà addirittura a 8 inning mentre Garcia se non sbaglio arriva a 7 riprese e solleva a maggior ragione le statistiche che evidentemente andavano appunto ritoccate un po' Houston in realtà sarà in vantaggio 2 a 0 per di fatto due terzi di partita ma Boston dall'altra parte non mi ha mai dato la sensazione di potercela fare perché l'attacco si è sgonfiato e dopo aver segnato una marea di punti nelle prime 3 partite perché ne hanno segnati 12 in gara 3 ne aggiungiamo 9 in gara 2 fanno 21 ci aggiungiamo i 4 della gara 1 e fanno appunto totale 25 dopo quei 25 punti si è delle prime 3 partite nelle altre 3 ne segneranno soltanto 3 perché 2 in gara 4 1 in gara 5 e addirittura 0 in gara 6 logicamente mancando l'attacco evidentemente mancano le prestazioni anche per supportare un monte di lancio che qui a maggior ragione è mancato qui anche con i lanciatori di punta sia Chris Sale nella gara precedente sia Nathan Eovaldi in gara 6 se c'è però un uomo che va tenuto d'occhio assolutamente e va anche ringraziato da parte di Houston Astros è l'esterno destro Kyle Tucker tutti penserebbero a nomi più altisonanti tipo Altuve tipo Correa tipo anche lo stesso Iulieschi Gurriel che comunque avrà da fare assolutamente il suo contributo ma Kyle Tucker ha delle statistiche veramente incredibili in questa postseason perché vediamo è vero battuta diciamo media battuta 275 che comunque non è altissimo ma ovviamente c'è molto molto di peggio ma abbiamo soprattutto 15 RBI è il giocatore di Houston che in questa postseason ha fatto veramente le battute giuste al momento giusto e dunque c'è bisogno di giocatori come il numero 30 degli Houston Astros che già è una squadra forte di suo perché ha un line up veramente profondo se poi i contributi arrivano anche da quelli che non sono le superstar ma sono paradossalmente i giocatori più di sistema allora attenzione perché Houston potrebbe veramente tornare a vincere il titolo che appunto si è giudicato nel 2017 nel modo che noi tutti sappiamo certo va detto che dall'altra parte c'è Atlanta che non è la squadra ultima arrivata perché appunto ha ribaltato un pronostico che vedeva i Los Angeles Dodgers favoriti e si può fare lo stesso discorso che ho fatto per Boston una formazione del genere che passa due turni e arriva dopo veramente tanti anni all'Ever Series è molto ma molto difficile da battere certo non è l'Atlanta diciamo al completo ma abbiamo visto che i rinforzi arrivati dalla sessione di mercato hanno fatto veramente veramente loro il bullpen degli Atlanta Braves ovvero i lanciatori di rilievo si è dimostrato di essere di livello considerato che spesso potrebbe capitare che i partenti dei Braves non vadano evidentemente così profondi vedi per esempio Ian Anderson in questa gara 6 contro i Dodgers ma evidentemente sono tutte formazioni che pur avendo dei limiti Boston e Atlanta potevano evidentemente dire la loro Atlanta è riuscita a ribaltare il pronostico contro i Los Angeles Dodgers e andranno a affrontare una formazione che ripeto non è forte quanto i Dodgers perché in un confronto ipotetico Houston-Los Angeles vedevo Los Angeles più favorita ma comunque gli Astros ripeto sono abituati a arrivare in questi playoff perché ricordiamo che hanno vinto la division per svariati anni consecutivi per 5 volte di fila compreso quest'anno sono arrivati alle Championship Series alle finali di Lega ancora una volta e ancora una volta vanno alle World Series due anni dopo quella World Series stranissima contro i Washington Nationals che di fatto finì 4-3 per i capitolini in una World Series veramente storica perché nessuna squadra che giocava in casa è riuscita a portare una vittoria nelle proprie carniera hanno vinto sempre le squadre in trasferta e Houston anche in quel caso aveva il fattore campo perché Houston ha il fattore campo in questa World Series perché ha il record migliore tra le due formazioni qualificate alle World Series Atlanta l'abbiamo detto più volte si è qualificata sì come vincitrice di division ma era la formazione con il record peggiore non arrivavano di fatto alle 90 vittorie Houston invece ha stravinto la National League West e ha superato di gran lunga le 90 vittorie se non sbaglio tra Atlanta e Houston ballano 6-7 vittorie in regular season e di conseguenza si giocheranno le World Series col fattore campo appunto a favore degli Astros di conseguenza si gioca al meglio delle 7 partite la prima partita sarà ripeto ancora una volta nella notte tra martedì e mercoledì e si giocherà al Middlemate Park di Houston Texas così come gara 2 dopodiché si farà un day off giorno di viaggio si andrà al Trois Park di Atlanta Georgia per giocare le prossime 3 partite ed eventualmente se appunto gara 6 gara 7 ma potenzialmente anche gara 5 dovessero appunto consumarsi gara 6 e gara 7 si giocherebbe di nuovo a Houston quindi al Middlemate Park per appunto il discorso che facevamo prima ricordiamo che nelle partite che si giocano a Houston si seguiranno le regole della American League di conseguenza ci sarà il battitore disegnato che per chi non conoscesse il gioco del baseball è un battitore che viene scelto di fatto per battere al posto del lanciatore che in American League lancia e basta e non va soltanto in battuta a differenza della National League dove il lanciatore va a battere di conseguenza Houston che è poco abituata a giocare nei campi delle altre leghe o dell'altra lega in questo caso dovrà adattare il suo ordine di battuta scarificando uno tra Michael Brantley e Jordan Alvarez che di solito si alternavano nel ruolo di battitore disegnato ultimamente il battitore disegnato era Jordan Alvarez che è anche stato un grande fattore per Houston in queste diciamo serie finali di postseason però comunque non è una serie così scontata è vero che Houston sulla carta è più forte sia dal punto di vista di proprietà del line-up sia come punto di vista di Monti di lancio ma ripeto Atlanta non è da sottovalutare perché è molto complicato battere una squadra in fiducia come appunto i Braves in questo momento entrambe le squadre va detto hanno un sacco di infortunati perché abbiamo già parlato degli infortunati di Atlanta perché mancano due esterni fondamentali come Marcello Zuna e Ronald Acuna Jr per quanto riguarda gli Atlanta Braves ma per l'Atalanta manca sempre Mike Soroka lanciatore fondamentale della rotazione dei Braves dall'altra parte però anche Houston non è che se la passi benissimo perché è quasi certo che il lanciatore migliore della rotazione ovvero Lance Mascarlas Jr non sia della partita e di conseguenza anche in questo caso probabilmente ci sarà una rotazione a tre dei lanciatori degli Houston Astor che probabilmente si affideranno a Luis Garcia a Franber Valdese probabilmente a Oseo Urchidi gara quattro potrebbe essere forse un bullpen game bisognerebbe vedere se si riesce a inserire una cosa di questo tipo anche per Houston per Atlanta dall'altra parte abbiamo un lanciatore che appunto è Wright Anderson appunto non c'è Soroka probabilmente gara tre sarà un bullpen game anche lì sarà un qualcosa da verificare il bullpen game è un qualcosa che è già stato concepito dai Tampa Bay Rays negli anni passati e che con un bullpen solido funziona Atlanta ha secondo me il bullpen per poterlo fare un pochino meno magari Houston a nomi però ripeto sono tutte dinamiche che andranno ad analizzarsi nel corso delle World Series che ripeto partiranno a breve sono World Series paradossalmente non così scontate perché appunto oramai fare pronostici è veramente complicato dal mio punto di vista spero arrivino a gara 7 semplicemente perché punto primo non tifo nessuna delle due squadre io sono un tifoso dei Mets che sono stati ampiamente eliminati dai playoff tifo per gara 7 perché per due formazioni belle da vedere come Atlanta e Houston vedere gara 7 è secondo me uno spettacolo se non lo spettacolo per eccellenza di fatto spero che ci possa essere ancora un cambio nel vincitore del titolo e non sia di fatto la solita Houston perché vedere Atlanta che trionfa dopo il 1998 è qualcosa di più affascinante di una squadra comunque bella da vedere come Houston che comunque ha creato una sorta di dinastia come dicevo perché è una squadra abituatissima ad arrivare ai playoff e oramai abbiamo capito che Houston si fonda su un core ben preciso di giocatori che sono sempre quelli e che fanno sempre prestazioni di altissimo livello tant'è che Houston male che vada negli ultimi anni è sempre arrivata alle conference series evidentemente Atlanta sarebbe qualcosa di diverso e renderebbe giustizia una stagione veramente importante che è stata risolta a settembre appunto un po' per gli innesti di mercato arrivati un po' per il corlo dell'altra squadra National League East e poi è stata corretta da questa postseason che ha visto il ribaltone su Milwaukee il ribaltone sui Dodgers e dunque per completare il trittico ci sarebbe il ribaltone su Houston noi riparleremo in ogni caso al termine delle World Series che appunto ripeto mi augurano possono arrivare alla settima partita e quando sarà tutto finito faremo appunto l'analisi di tutte le serie di finale che appunto andranno in scena tra qualche giorno ovviamente seguite ovviamente Sky Sport o se potete MLB TV perché saranno loro che potranno dare evidentemente il contributo visivo a queste World Series e dunque Houston Atlanta Braves vinca il migliore il mio pronostico da simpatizzante della National League in generale è per gli Atlanta Braves ma se va come i pronostici delle Conference Series delle Championship Series meglio ti saluto perché li ho sbagliati tutti e due vedremo appunto chi sarà il MOL campione MLB 2021 e ne riparleremo nella ultima Major League Review della stagione sul mio canale sportivo fatevi vedere cosa ne pensate il saluto da parte di Meteo Torger ci vediamo domani verosimilmente domani sera alle 21 per il post gara del campione di Austin Texan della Formula 1 e poi nei prossimi giorni per la MotoGP che ha corso a Misano Adriatico